La scala da bagno. La scala da bagno prende l'acqua del bagno, senza i saccoli, la mescola con l'aria e il formato comune. Ah, cioè questa è acqua? Sì, acqua e aria. Sì, al 95% perché poi c'è dentro anche un magnetico schemogeno biologico che può essere anche a un'acqua, e l'acqua. È assolutamente ... È schiuma. Questa dico la faccola, è anche un po' di risposta. È schiuma. Ah, davvero, com'è fatta? Questa è? Ma la cera è fatta? Adesso vabbiamo a fare più. Ma la puoi toccare tutta. La fai con la vasca? Sì, sì, sì. C'è del sapone o no? Non c'è il sapone. E cos'è? Fatta con... Fatta con acquaria è uno... E' uno speciale additivo schiumogeno che non fa male alla pelle perché non fa male alla pelle quindi è con questo. Aspetta, Ale, scusami.